Il treno suburbano S5-24-516, di Trenord, proveniente da Treviglio, è diretto a Varese, delle ore 6 e 38, e in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Segrate, Milano Forlanini, Milano Porta Vittoria, Milano Dateo, Milano Venezia, Milano Repubblica, Milano Porta Garibaldi, Milano Lancetti, Milano Villa Pizzone, Milano Certosa, Rò Fiera Milano, Rò, Vanzago Pogliano, Paradiago, Canegrate, Legnano, Busto Arsizio, Gallarate, Cavaria Oggione Irago, Albizzate Soldiate Arno, Castronno, Gazzada Schiano Morazzone.